Sì, è un momento molto importante che è stato anche racchiuso nelle parole di Don Scots durante la celebrazione avvenuta poco fa, un istituto molto importante per il nostro territorio che coniuga la storia, le tradizioni, l'istruzione e la ricerca, un percorso che sicuramente deve essere portato avanti, deve essere portato avanti perché è una valorizzazione del nostro territorio, non solo la formazione di giovani, ma è importantissimo proprio dal punto di vista anche della ricerca.